Ciao a tutti, abbiamo un nostro lettore, il signor Gargiulo, che ci fa presente una cosa che si potrebbe intervenire per migliorare. Allora, qua ci troviamo in intersezione fra il Corsitalia e anche Corsitalia, anche questo, per farci capire vedendo una metodo subito dopo il 3S. Allora, qui hanno lasciato un po' la strada in queste condizioni. Come mai? Che cosa è successo? A parte il fatto dei marciapiedi e anche lo stato della strada, dell'asfalto, ma anche le siepe. Non per fare un rimprovero al sindone agli assessori, devo dire la verità, ogni volta che vado per la siepe la vengono a fare, però ci devo andare perché altrimenti la siepe, quel marciapiede è impraticabile. A parte l'asfalto rosso, che risale a 30 anni fa. E infatti, guarda, l'asfalto qua... E questo è l'asfalto di 30 anni fa che fece al loro sindaco Gargiulo quando ha fatto i palazzi. poi hanno messo il gas, è arrivato fino a qua il gas, poi sopra non hanno continuato. Perché? E quindi qualcosa bisogna fare. Facciamo un appello col giornale, grazie signor Gargiulo per questo suo intervento. Mi sembra molto razionale. Stai guardando in là, guardate quelle siepe, come hai ridotto. Eh sì, qua è... Sembra Corso Italia è, non è? Hai detto un po' malaccio, effettivamente, un po' di abbandono. Bisogna fare qualcosa. Poi, essendo sempre Corso Italia, noi abbiamo tutti gli oneri e gli onori, perché la spazzatura la ritirano di domenica. Il parcheggio lo paghiamo quando Corso Italia. E quindi paghiamo le tasse come l'altro Corso Italia. È sempre Corso Italia è. Sempre Corso Italia è. Allora, diamoci da fare e facciamo qualcosa. Anche perché poi, pure diciamo, non è un bel bietto da visita. No, se vede, là giù c'è un fungo di questi qua, che saranno 20 anni che sta là a te, rotto. Eh. Sicuro sono 20 anni che sta là, non si vede. Stanno quei motocicli. Eh, vabbè, si vede comunque la manutenzione, sì. La manutenzione è quella, basta vedere questo comunque, effettivamente. Mi sembra un po', cioè, visto che stanno facendo tutte le strade, può darsi che sia stata una divendicanza. Speriamo che si pensi anche a questo tratto, grazie.